Rof 15K vuole festeggiare i 15.000 giorni di Rossini Opera Festival. Il 28 agosto 1980 per la prima volta si è alzato il sipario sui palcoscenici del Rof e il 22 settembre 2021 sono trascorsi esattamente 15.000 giorni. Il Rof ha inciso in maniera importante sul quotidiano del nostro territorio e quindi abbiamo pensato che fosse giusto utilizzare il giorno come unità di misura per celebrare un'importante ricorrenza. Quindi questa mostra vuole festeggiare la storia del festival attraverso un punto di vista particolare, quello della messa in scena. Quindi in mostra potremo vedere 24 modellini di scena di alcuni degli allestimenti più importanti di questa storia del festival restaurati dalle laboratori del Rof. Si tratta di una manifestazione che ci riempie di orgoglio e che a tutti quelli che amano e hanno amato il Rof farà rivivere tanti, tanti ricordi bellissimi. Ogni produzione ha i suoi risvolti e solleciterà in ciascuno di noi che li ha visti tanti ricordi di grande qualità durante tutti questi anni. 15.000 giorni di Rossini e Pra Festival che equivalgono ovviamente a un po' più di 40 anni, 42 anni di festival raccontati in un viaggio incredibile e anche veramente emozionante per le maquette che sono i modellini che venivano e vengono tuttora realizzati dai registi quando poi propongono al festival la propria idea di opera che gli viene commissionata. Già qualche anno fa, visitando i depositi del festival, ci chiedevamo se non fosse ora di ripristinare questi modellini, farli vedere a un pubblico più largo rispetto agli addetti ai lavori a cui normalmente sono destinati un viaggio attorno al ricordo di tutti i registi che si sono susseguiti e anche i diversi modi, i tanti modi di poter vedere uno stesso titolo una stessa opera come il Barbieri Siviglia o come la Semiramide o come Moise Faraon quindi nel contesto del Museo Nazionale Rossini che già aveva una maquette delle più importanti, quella del Moise Faraon di Vic del 97 sempre esposta di una bellezza veramente rara crediamo che sia un bellissimo viaggio per il pubblico, per i turisti ma molto anche per le scuole e soprattutto anche per gli appassionati d'opera e magari ognuno potrà ricordare attraverso una maquette o un modellino dove era seduto in sala e cosa ha rappresentato per lui magari quel festival quella edizione, quella estate pesarese